coronavirus altro record di contagi nelle marche 453 casi in un giorno didattica a distanza incrementata autobus al 60 per cento di capienza ecco le regole di acquaroli tramutavano accrediti in addebiti scoperti truffatori online a fano vai al parco e prendi un libro inaugurata l'undicesima little free library presa rese una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv canale 633 delle digitale terrestre e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera telegiornale di venerdì 23 ottobre che purtroppo apriamo con un altro aggiornamento dei casi di coronavirus nelle marche che continuano a registrare un altro preoccupante primato di contagi sono infatti 453 i casi rilevati in regione nelle ultime 24 ore mai così tanti un dato preoccupante perché un'impennata che prosegue e che fa già carta straccia del record di ieri quando si erano registrati 321 casi aumentano i contagiati aumenta anche la percentuale di casi positivi rispetto ai tamponi processati ieri sono stati effettuati in totale 4317 test ma i casi di contagio vengono dai 2224 tamponi del percorso nuove diagnosi positivo dunque un tampone su cinque con una percentuale del 20,4 per cento salita rispetto al 18,8 per cento di ieri mentre nei due giorni precedenti era stata del 15 e del 9 per cento contagi più contenuti nella provincia di pesorurbino con 42 casi ben più colpite le province di macerata e ascoli piceno rispettivamente con 127 e 111 casi dei 453 contagi rilevati oggi sono 73 quelli che mostrano sintomi aumentano i casi di covid e la regione marche cerca di arginare la problematica con una nuova ordinanza annunciata ieri dal governatore francesco acquaroli che vi illustriamo nel nostro primo servizio didattica in presenza al 50 per cento nel triennio delle scuole superiori capienza degli autobus ridotta al 60 per cento sono queste alcune delle regole sottoscritte dalla nuova ordinanza del presidente della regione marche francesco acquaroli emanata giovedì sera non solo scuola tra le altre regole è previsto il divieto al consumo di alcolici nei luoghi pubblici e attenzione rigorosa al distanziamento nei centri commerciali dove andrà rispettata la regola di una persona ogni 10 metri quadrati di superficie la questione della didattica a distanza è la causa di un trasporto ubriolo locale che purtroppo non riesce a garantire le distanze e può essere causa di contagio quindi in questo senso cerchiamo di alleggerire il trasporto ubriolo locale così da non compromettere le elezioni in presenza per tutti e in questo tempo della durata di circa tre settimane fino al 15 di novembre noi cercheremo di comprendere quello che è l'andamento e di mettere in campo tutte le risorse per cercare di potenziare il trasporto ubriolo locale in base alle esigenze che riscontreremo e di riportare tutti gli alunni in presenza. L'obiettivo è il 15 di novembre di tornare dietro? L'obiettivo è il 15 di novembre di vedere la situazione e di cercare di capire quali mezzi possiamo mettere in campo per cercare di sopperire e di potenziare il trasporto ubriolo locale per quello che riguarda la didattica in presenza. Per le attività commerciali a che cosa avete pensato? Abbiamo pensato a interventi che non vanno a condizionare le attività commerciali ma il comportamento e l'accesso alle attività commerciali che deve essere in sicurezza per tutti. Nella nostra regione nei centri commerciali, nei grossi centri di distribuzione era consentita la presenza di una persona ogni 8 metri quadrati. Noi abbiamo ridotto la presenza di una persona ogni 10 metri quadrati e chiaramente deve essere fatta la sanificazione, deve essere fatta tutta una serie di interventi che sono la mascherina e il distanziamento e non è consentito nei luoghi chiusi all'interno dei centri commerciali la possibilità di mangiare o di bere lungo i corridoi perché potrebbe essere anche questo un elemento che consente al virus di contagiare, può essere un'occasione di contagio. Quindi è questo e poi c'è l'impossibilità di bere e mangiare in assembramento, lo ripeto, in assembramento significa più due o più persone vicine non possono bere e mangiare nelle piazze e nelle strade perché è chiaro che si mettono in campo tutta una serie di interventi per cercare di ridurre il contagio e poi la distrazione anche seppure di pochi minuti può compromettere quanto si fa in termini anche di sacrifici da parte di tanti. I controlli saranno fatti dalle autorità competenti per evitare che queste ordinanze siano vane ma invece devono essere rispettate perché sono comportamenti che messi tutti insieme possono evitare i scenari peggiori soprattutto possono evitare danni alla salute e alla sicurezza delle collettività e della comunità marchigiana e anche con un eventuale ristringimento delle misure anche danni a livello economico e lavorativo. Per le sale giochi abbiamo detto che è consentita l'attività alle 8 alle 21 per quello che concerne lo sport abbiamo d'accordo con le federazioni e col CONI rinviato l'inizio di alcuni campionati di qualche settimana per controllare la crescita o la stabilizzazione della curva epidemiologica per cercare di evitare che gli effetti di questi inizi di campionato possano poi avere un'incidenza negativa sulla curva epidemiologica. Ed ora nel prossimo servizio vi parliamo di una serie di truffe online smascherate dalla polizia di Fano. Il modus operandi era sempre lo stesso. Proponevano offerte d'acquisto rivolte a prodotti in vendita su piattaforme online, poi si facevano contattare telefonicamente dai venditori e, come ultimo step, fingevano scarsa dimestichezza nelle procedure d'acquisto, spingendo poi quegli stessi venditori ai bancomat dove poter espletare le procedure d'accredito. Una volta arrivati gli sportelli scattava il gioco di prestigio. Con abili raggiri i truffatori riuscivano a trasformare quegli accrediti in operazioni da debito all'insaputa del malcapitato venditore. Una vera e propria arte della truffa divisa fra web e bancomat, quella smascherata dalla polizia di Fano, che dopo una mirata attività investigativa ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini italiani presunti responsabili di queste truffe. Le indagini sono scattate al ripetersi delle denunce al commissariato fanese, diretto da Stefano Seretti, dove si ripetevano le stesse modalità. Prima l'intenzione dell'acquisto, poi tutta una serie di scuse sulle modalità di pagamento, talvolta millantando anche difficoltà legate a presunte disabilità, e infine i malcapitati venditori finivano al bancomat. Una volta digitati i codici via telefono scattava la truffa. Le operazioni al bancomat sono state ripetute più volte, c'è chi ha perso 400 euro e chi addirittura se ne è visti sottrarre 3.000. I carabinieri di Borgo Santa Maria sono invece intervenuti questa mattina per una serie di furti avvenuti in strada a Montefeltro, nei pressi del vivaio Verde Mondo. Furti ai danni del deposito dei camion ai quali è stata rubata benzina e gasolio e una simile refurtiva è stata sottratta agli orti circostanti, dove si sono anche verificati diversi danni alle serre e agli infissi. Ed ora ci occupiamo di due bandi regionali che riguardano la mobilità sostenibile e che ci vengono illustrati dal consigliere Andrea Biancani. Come ragione Marche in questi anni abbiamo investito tantissimo sulla promozione della mobilità sostenibile, tanto che abbiamo approvato il piano della mobilità elettrica, il piano della mobilità dove sono comprese le tante piersi ciclabili, sia per quanto riguarda la ciclovia adriatica che le ciclovie lungo le valli. A questo proposito, in questi giorni, sono usciti due bandi molto importanti che sostengono la mobilità sostenibile. In particolare un primo bando è rivolto ai comuni sotto i 20.000 abitanti che scaderà il 23 novembre, un bando che ha una quantità di risorse di oltre 800.000 euro e è rivolto ai comuni sotto i 20.000 abitanti che vogliono realizzare percorsi ciclabili, quindi i pisti ciclabili, far la manutenzione di quelli esistenti o anche per mettere ad esempio in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Dall'altra parte un ulteriore bando di 828.000 euro che scaderà il 7 dicembre. Questo invece è rivolto alle attività private, in particolare a quelle attività che hanno un accesso di tipo pubblico, ad esempio attività commerciali, artigianali, negozi, attività turistiche, ricettive, cioè tutte quelle attività che vogliono installare delle colonnine elettriche. Penso che siano due risposte importanti e mi auguro che siano tante le attività che decidono di partecipare a questo bando. Oggi è il 23 ottobre della data in cui avrebbe compiuto 100 anni lo scrittore Gianni Rodari, una data simbolo che è stata scelta dalla Onlus Gulliver per inaugurare la sua undicesima Little Free Library, dedicata proprio agli alunni della scuola primaria Gianni Rodari in zona Cinque Torri. Ci troviamo nella zona Cinque Torri di Pesaro e precisamente nel parco di Via Scialoia, dove alle mie spalle vedete tanti studenti della scuola primaria Rodari che stanno consultando, sfogliando una serie di libri che hanno preso nella Little Free Library, la nuova casetta dedicata a una sorta di biblioteca libera a servizio degli studenti e non solo, che è stata inaugurata proprio quest'oggi nel parco. Si tratta dell'undicesima Little Free Library tornata alla città dalla Onlus Gulliver. Questo è un progetto che prevede il filiale che arrivi a 50 casini nella città di Pesaro. 50 che secondo noi, secondo l'amministrazione comunale, secondo l'assessore Vimini che è con noi in questo progetto, porti alla città di Pesaro ad essere la prima città europea in base agli abitanti con più library nella città. Oggi inauguriamo l'undicesima in un giorno speciale, nel giorno del compagno di Rodari. Questi sono dei libri che l'amministrazione ci ha donato per la casina. Le casine sono nei parchi cittadini o in luoghi accessibili al pubblico vicino alle scuole. La funzione è semplice. Nella casina vengono messi dei libri e curati settimanalmente dalla Gulliver con dei libri nuovi. Chiunque, la mamma con il bambino, il nonno con il nipote, possa venire nel parco, prendere un libro, leggerlo sul luogo e portarlo alla casa. Poi se il libro piace può anche tenerlo la famiglia a casa. E noi con la Gulliver andremo sempre a rimpiazzare questi libri. Io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio la Chiara Ferri, che è una delle nostre responsabili del progetto, ringrazio la Francesca che segue anche lei il progetto. Siamo un bel gruppo di volontari, ricordo 200 volontari. Abbiamo tre sedi a Pesaro, via Toscana, via Rossi e via Piazzaredi. E questo è uno dei tanti progetti della Gulliver, che secondo me è meritevole perché veramente è di impatto con i bambini nel parco, con le scuole. È un progetto bellissimo che portiamo avanti con bellezza. È un progetto che mira proprio a questo, alla diffusione e alla promozione della lettura e del libro. L'idea proprio della library di portare i libri nelle famiglie e di far sì che la lettura diventi proprio uno strumento fondamentale per l'educazione e la cultura, credo che sia fondamentale. Per cui ci sembrava veramente una grande opportunità per i quartieri, per le famiglie che magari non possono raggiungere anche le biblioteche o non hanno la possibilità di acquistare dei libri, di poter prendere un libro gratuitamente e poter rifare entrare questi libri in tutte le famiglie della città di Pesaro. Gli alunni sono assolutamente entusiasti di partecipare a questo tipo di iniziative e anche alla condivisione, perché comunque si tratta di un'esperienza di condivisione di materiale proprio, di materiale che riescono a trovare qui nel parco e di accesso libero per tutti. Quindi i bambini assolutamente contenti, ma anche i genitori, le famiglie sono disponibili. Questa non è la prima esperienza per il nostro istituto, e abbiamo visto che è funzionale all'utenza e comunque una buona promozione alla lettura e allo stare insieme, perché secondo me è importante anche questo. La provincia di Pesaro e Urbino ha ricevuto dalla ditta 4M di Bolzano la relazione di uno studio di indagini strutturali su 19 ponti del territorio. Una situazione complessiva non preoccupante, secondo il dirigente del servizio viabilità della provincia Mario Primavera, ma che richiederà lavori di manutenzione straordinaria per gran parte dei ponti in cemento armato esaminati. Quattro di questi meriteranno verifiche più approfondite, mentre sul ponte grumale di Cagli è stata limitata la portata di carico a 26 tonnellate. L'associazione di volontariato Tutti i cuori di Rossana ha donato oggi due depuratori d'aria e sanificatori d'ambiente ad altrettante strutture della città di Pesaro che ospitano le fasce più deboli, l'asilo nido di infanzia e il girotondo di Vismara e la residenza protetta per anziani Casa Aura di Santa Colomba. Un gesto di generosità del valore di 7200 euro con cui l'associazione ha voluto devolvere alla comunità i contributi ricevuti attraverso il 5 per 1000. La Regione Marche ha affidato al Centro Servizi Volontariato il ruolo di gestore del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta di una opportunità unica per promuovere le idee di enti e associazioni del terzo settore basata su cinque temi. Territorio resiliente, cambiamento climatico, servizi ecosistemici, equità tra cittadini e sviluppo economico sostenibile. Domani, sabato 24 ottobre alle ore 18, al Conventino di Monte Ciccardo verrà inaugurata LIMEN, una terra chiamata Orizzonte. Una mostra che rappresenta il terzo appuntamento del Festival Internazionale Sponde promossa dall'associazione Anima Femina con il contributo della Regione Marche. LIMEN, a cura di Milena Becci, si diramerà tra fotografia e poesia attivando uno stretto legame con la penisola balcanica. Le due arti permettono l'incontro tra due orizzonti, l'uno visto dal litorale marchigiano e l'altro scorto dai Balcani per unire due terre. In mostra ci saranno quattro artisti, Masa Baic, Alessandro Giampali, Anna Opalic e Luca Piovaccare, e quattro poeti, cioè Davide Nota, Stefano Sanchini, Natascha Sazgowska e Aless Treger. Dopo il rinvio di un anno della tradizionale Fiera del Tartufo Bianco Pregiato, Acqualagna decide di valorizzare il suo prezioso tubero con l'evento Fieri del Tartufo. Dall'1 novembre al 31 dicembre ci saranno nel paese punti vendita dedicati ai tartufi, menu a prezzi promozionali ed escursioni con i cani da tartufo. Ci sarà anche la competizione fra cavatori e verrà confermato l'annuale premio nazionale Enrico Mattei, città di Acqualagna. E' invece annullato il primo appuntamento della rassegna dell'AMAT, Le Belle Domeniche, che era previsto per domenica al Teatro della Rocca di Sasso Corvaro. Una cancellazione in via precauzionale per le sopraggiunte difficoltà legate alla emergenza epidemiologica. Ed ora ci occupiamo di sport. Ieri sera è arrivata la prima vittoria in campionato per l'Ital Service Pesaro. La squadra bianco-rossa di Calcio 5 è tornata vittoriosa dalla trasferta di Pescara, battendo la Colormax con un netto 6-1. Partita ma in discussione con le reti di Cuzzolino, Borruto, Marcelinho, Taborda, Canal ed Olivera. Dal Calcio 5 passiamo al basket perché dopo la sconfitta interna con Trento, domenica alle 18, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro giocherà in trasferta a Roma. Una partita che è stata presentata poche ore fa da coach Yasmin Repesia in conferenza stampa alla Vitri Frigo Arena. Conferenza di cui vi riproponiamo qualche estratto nel servizio realizzato da Marco Cadeddu. Drell sicuro non gioca, sicuro non gioca e in Carlos vediamo, vediamo perché sul recupero dobbiamo stare attenti perché è un fastidio muscolare e dobbiamo stare attenti per non ripetere stessi infortuni. Sì, onestamente l'unica mia preoccupazione è questa perché io come allenatore e nostra squadra deve essere aggressiva, deve correre, ma con panchina come adesso in questo momento abbastanza corta, sai, faremo fatica ad andare fino in fondo perché noi abbiamo perso tre partite, tutte e tre partite nell'ultimo quarto. E' mia preoccupazione, ho visto di nuovo tutte le partite, sicuro abbiamo calato con energia in tutte e tre partite che abbiamo perso, abbiamo calato con attenzione in tutte e tre partite che abbiamo perso, non solo in difesa uguale, in attacco, l'ultima partita contro il Trento, turnovers che abbiamo fatto l'ultimo quarto, non abbiamo fatto in primo tempo, tirando 0 su 13 in primo tempo siamo stati là, ma alla fine purtroppo non siamo riusciti ad andare fino al quarantesimo minuto con giuste energie e attenzione. In questo momento il mio pensiero è prolungare la panchina con giocatori che ci sono a disponibilità. E questa è una cosa che stiamo provando durante questa settimana e proveremo sicuro là. Vorrei dire che è sicuro uno o tre giocatori che fino adesso non hanno giocato, hanno giocato poco poco, devono per forza contribuire con qualcosina, con energia, con disponibilità, con attenzione, perché se andiamo nello stesso modo come fino adesso con sette massimi giocatori faremo veramente di nuovo fatica. Loro onestamente hanno giocatori di talento, Robinson è uno che quando accelera è difficile fermarlo, sai. Bini è un giocatore, un attaccante veramente straordinario, uno che segna può segnare. Hanto onestamente è migliorato molto dall'ultima volta che l'ho visto. Adesso non è solo uno che salta e ha presenza sulla rimbalza, uno che è uguale, sa finire, è veramente migliorato. Wilson lo conosciamo, una conoscenza italiana da Torino, da un giocatore completo, una alla forte che può aprire campo, che gioca a spalle e canestro. Ci sono giocatori, Baldasso è uno un po' in gar che ha migliorato tanto, Campogrande è uno che sappiamo è un grande tiratore, Cervi ha una presenza sotto canestro con il suo corpo, con sai. È una squadra di talento, sicuro dobbiamo avere una difesa straordinaria, ma non come queste tre partite che abbiamo perso, tre quarti, dobbiamo averla in 40 minuti. Ognuno che ha visto una partita nella sua vita sa che a noi manca un minimo lungo. Ma non possiamo permettere di spendere soldi, perché dove li troviamo? Non lo so. Non lo so dove li troviamo. E una situazione così, ho detto, non spendere, anzi risparmiare se qualcuno ha qualche soldo di più, mettere a parte per tempi che sicuro vengono prima o dopo, di nuovo più buoni tempi, come posso dire, sì, e nello stesso tempo dare chance a qualche italiano che gioca a B1, non lo so, può essere che c'è uno interessante, uno bravo, che fino adesso non ha avuto chance, e nello stesso tempo a fare un favore per basket italiano, per futuro. Sicuro dovrebbe essere un anno chiuso, un anno di transizione, diciamo, come possiamo dire? Un anno di transizione. Se Covid si ferma, ok, per prossimo anno, tornare di nuovo, come è stato prima. Ma in questa situazione, secondo me, è peccato, peccato, non avere una programmazione diversa. Diversa, perché è tutto diverso. Se è tutto diverso, dovrebbe essere nostro lavoro uguale, diverso, nostra programmazione diversa. Perché è tutto diverso. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale Rossini News. Prima di salutarci, vi ricordiamo gli appuntamenti della nostra prima serata. Prima serata che alle 21.15 e alle 22.30 vedrà due puntate della TV dei viaggi. Dopo la TV dei viaggi, per chi se lo fosse perso alle 19, c'è il Vallefoglia Magazine anche alle 23.00. Il telegiornale di Vallefoglia, condotto da Andrea Sabatini, sarà anche visibile in replica sabato, domenica, lunedì e martedì. Domattina, invece, c'è la rassegna stampa di sabato con Buongiorno Rossini, condotta da Marco Cadeddu, in diretta dagli studi di Rossini TV, a partire dalle 7.20. E si conclude qui dunque Rossini News dalla redazione di Rossini TV. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV.